Dall'inizio dell'estate 2020 le sigle sindacali di CGL, Cisla e Wille hanno evidenziato la gravità della situazione in cui versa la provincia di Teramo e lo hanno fatto cercando di stimolare il dibattito e il confronto con le istituzioni a tutti i livelli attraverso documenti programmatici. Ma a distanza di 15 mesi dopo una serie di incontri e confronti i segretari provinciali chiedono di non perdere più tempo e di passare dalle idee fatti con azioni concrete per il rilancio del territorio. Bisogna trasformare le idee che ci sono state in questi 15 mesi in fatti, in progetti concreti, in programmazione. Noi avevamo da un anno, insomma più, dal giugno dell'anno scorso, da 15 mesi abbiamo in qualche modo sollecitato tutte le istituzioni e quelle che sono e restano le responsabilità di questo territorio dal punto di vista politico e imprenditoriale a far sì di in qualche modo trovare uno spazio nel quale comunque convogliare le idee, i contributi per riprogettare e rilanciare i territori. Le priorità sulle quali andremo a lavorare da subito, quindi già dalla fine di questo mese, le abbiamo individuate in tre o quattro argomenti fondamentali che tengono conto di quello che stiamo vivendo quotidianamente. Quindi da una parte c'è il tema dell'industria, con particolare riferimento all'automotive, all'agroalimentare, a tutto quello che si può sviluppare in Val Vibrata. L'altro grande tema è quello della sanità, proprio perché si spera ci si possa avviare verso una fase nuova. Rispetto a questo argomento evidenziamo la necessità e la possibilità concreta, tenendo conto anche di quelle che sono le risorse che arriveranno, di rafforzare finalmente il concetto della sanità territoriale. L'altro tema ancora è quello della sicurezza, perché non possiamo ogni volta aspettare che ci siano degli eventi tragici per poterne parlare. Ed infine c'è il tema del sociale. Tra un po' avremo le risorse destinate dall'Europa anche a questa regione e saranno ingenti. E noi dobbiamo fare in modo che queste risorse siano spese bene e in progetti finanziabili che puntino veramente a un rilancio economico, sociale, produttivo e lavorativo di questo territorio e che punti soprattutto a salvaguardarlo questo territorio, perché noi dobbiamo dare un futuro ai nostri giovani, dobbiamo dare una risposta a tutte le famiglie che stanno in difficoltà e dobbiamo mettere in sicurezza quei lavoratori che oggi sopravvivono con la cassa integrazione e con gli ammortizzatori sociali e dobbiamo dargli un futuro a queste persone.